Musica Si svolgerà domenica 12 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Biella il campionato regionale indoor su pista organizzato dall'associazione polisportiva Pietro Micca ma sentiamo tutti i particolari direttamente da Paola Burzo, direttrice sportiva dell'associazione dilettantistica biellese Domenica 12 febbraio al Palazzetto dello Sport di Biella avremo la prima competizione di campionato regionale indoor delle categorie giovanissimi ed esorbienti siamo riusciti a formare all'interno della nostra associazione la prima squadra agonistica e parteciperanno a questa gara i nostri allievi il nostro settore del battinaggio si svolge e gli allenamenti vengono fatti al centro sportivo Joker in piazza Falcone a Biella dove i nostri atleti possono comodamente in una struttura adeguata fare gli allenamenti sia per quanto riguarda i giovanissimi fino ad arrivare alle categorie più grandi anche agli adulti sono seguiti da un istruttore federale Marco Rosio che si occupa dell'inserimento dei piccoli all'interno delle squadre agonistiche e non solo perché noi facciamo anche divertimento, facciamo anche quello che può essere divertirsi non solo all'interno del centro sportivo ma anche per le strade per cui con delle passeggiate sui pattini fino ad arrivare ad un discorso agonistico i nostri bambini sono seguiti oltre che dal maestro anche da un allievo che si sta formando Luca Garbaccio e oltre ad avere quello che è una preparazione federale hanno anche la loro preparazione sportiva perché sono entrambi atleti che continuano a far parte della nostra squadra per gli allenamenti e anche per le gare i nostri corsi si svolgono al centro sportivo Joker il lunedì per quanto riguarda i piccoli per cui i bambini dai 5 agli 8 anni, dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19 per i gruppi dei bambini un pochino più grandi al venerdì sera abbiamo i corsi degli adulti e al sabato mattina dalle 10 alle 11 e dalle 11 a mezzogiorno e mezza i corsi sempre dei bambini e dei giovanissimi l'appuntamento è per vedere lo spettacolo al palazzetto dello sport di Biella in via Paietta domenica 12 dalle ore 15 alle ore circa 18 si svolgeranno all'interno del palazzetto dei percorsi con dei circuiti dove i bambini faranno la vera e propria gara di campionato domenica 12 dalle ore 15 alle ore circa 18 si svolgono al palazzetto